Sono iniziati i primi lavori in via Renato Serra, quello che sarà un lungo percorso che porterà ad una riqualificazione dell'intera aria. La prima fase vedrà la realizzazione di nuove condutture dell'acqua, la fognatura, l'impianto di illuminazione, le aree di sosta e la sistemazione dell'incrocio con le vie Giordano Bruno, Pascoli e Gabici. Le lavorazioni saranno svolte mediante l'ausilio di deviazioni temporanee del transito veicolare, opportunatamente segnalate. La seconda fase dei lavori riguarderà il tratto da via Pascoli a via Cesarea dove sono previsti interventi di rifacimento dell'acquedotto, dell'impianto di pubblica illuminazione e lavori di sistemazione di opere stradali. Inoltre si procederà al riassetto delle aree adibite alla sosta, alla sistemazione dell'intersezione via Serra, via Giordano Bruno, via Pascoli e via Gabici, mediante la realizzazione di una rotatoria con diametro di 17 metri e il rifacimento e ampliemento di tratti di marciapiede, nonché la riqualificazione dell'area antistante l'ex macello. Sarà poi rifatta la pavimentazione su tutto il tratto stradale di via Renato Serra. La terza fase, per la quale però sarà necessario attendere l'approvazione di tutti i progetti, riguarderà il parcheggio che verrà rivoluzionato sulla falsa riga di quanto fatto in via Guidarello-Guidarelli, portandolo da 80 a 160 posti, su più piani. L'area diventerà pagamento. Probabilmente verranno installati i sistemi per pagare effettivamente il tempo di occupazione degli stalli, senza quindi un biglietto ma attraverso app o mediante un sistema di lettura delle targhe. Saranno installate le telecamere e sarà aumentata l'illuminazione. Ma i gruppi di opposizione hanno anche chiesto un ulteriore livello di sicurezza, aumentando la visibilità per gli automobilisti in uscita dal parcheggio. Ad oggi, infatti, l'uscita dal parcheggio è molto pericolosa. Le auto devono attraversare la pista ciclopedonale e poi mettersi su via Renato-Serra. A disposizione degli automobilisti due specchi, ma a causa del muro di recensione troppo alto, la visibilità non è ottimale. Spesso gli stessi specchi vengono spostati da qualcuno che pensa di fare un atto goliardico, mettendo invece in pericolo ciclisti e pedoni. Sulla possibilità di abbattere il muro e con le parti abbattute realizzare delle sedute per gli stessi utenti della ciclopedonale, come richiesto dal gruppo misto e Ravenna in Comune, però si dovrà esprimere la soprintendenza. Il progetto di riqualificazione del parcheggio di via Renato-Serra rientra all'interno di un progetto più ampio di riqualificazione dell'intero Borgo San Rocco e di piazza Anna Magnani, che dovrebbe essere liberata dalle auto per poi essere trasformata al termine di un percorso partecipato con le realtà della zona. L'idea di rendere il posteggio di fronte all'ex macello a pagamento risponde alla necessità di impedire agli utenti di occupare gli stalli in pianta stabile. La nuova parola d'ordine infatti per il centro storico è rotazione, la massima possibile in modo tale da lasciare gli stali liberi per coloro che si recano nel Borgo o comunque in centro storico per acquisti o altri servizi.